Pantalone in pelle nero abbinato ai tronchetti con tacco medio e largo, camicia in seta color crema e giacca a motivi animalier lasciata aperta. Impeccabile nel suo look Margossi Caboni felice ha presentato davanti alla stampa e ai fotografi la nona stagione di un medico in famiglia che già domenica 16 marzo nella sua prima messa in onda su Ray 1 ha stracciato la concorrenza conquistando nei due episodi rispettivamente 5 milioni 826 mila e 5 milioni 599 mila telespettatori l'attrice è ancora nel cast di una delle serie più longevi